ciao a tutti ragazzi qui come sempre il vostro ara e non vi lascio soli neanche a pasquetta ebbene sì finalmente ho completato le tartarughe ninja next mutation la serie di giocattoli dedicata alla famigerata serie tv che in realtà è meglio dimenticare come serie tv una serie uscita negli anni 90 ovviamente con le tartarughe super pompate fatta malissimo stile non so tipo power ranger però ripeto meglio dimenticare quella serie ma io non ho dimenticato il design però di quelle tartarughe ninja che è uno dei design che preferisco in assoluto se non il mio preferito in assoluto ed è quello che è stato riportato appunto abbastanza fedelmente in realtà su questi giocattoli adesso andremo a vedere tutte le tartarughe ce n'è anche una quinta per chi non lo sapesse è una tartaruga femmina di nome venus vi faccio vedere però prima anche il cartone addirittura il blister di una di queste tartarughe che è michelangelo vedete erano accompagnate da queste armi le armi diciamo classiche che in realtà non sono neanche tanto classiche in questo caso michelangelo usava i tonfa poi delle armi a caso per esempio questa mazza da baseball con corda e pallina una fionda e uno spara qualcosa veramente roba assurda insomma questo qui era il logo della serie queste erano le altre figure disponibili sono riuscito a recuperarle praticamente tutte le tartarughe ovviamente mi manca splinter ma non credo di volerlo recuperare sinceramente però mai dire mai chissà se trovo magari qualche offerta dovete sapere questo video a proposito è tutta colpa di vinted su vinted sono riuscito a recuperare tutte queste tartarughe piano piano a cifre abbastanza diciamo normali più o meno diciamo così comunque andiamo a vedere una per una cominciamo da donatello eccolo qua perché mi piace tanto il design perché ogni singola tartaruga aveva una bandana diversa di forma diversa oltre al colore diverso vedete donatello per esempio a questa specie di passamontagna e queste le rendeva più uniche le rendeva assolutamente più uniche poi avevano tutte le fasce che mi piacevano un sacco sia agli stinchi che alle braccia e vabbè poi avevano le loro armi classiche in realtà in questo caso la figure di donatello era dotata di due di questi bastoni con tanto di fascia non rimovibile purtroppo e quindi aveva il doppio bastoni io sono riuscito a recuperare addirittura un terzo che tengo anche legato sulla figure quindi chi più ne ha più ne metta donatello con tre bastoni piaceva anche un sacco il fatto che avessero queste fasce molto lunghe sul retro quindi veramente figo questo quindi è la prima poi abbiamo raffaello eccolo qui con i suoi due sai diciamo abbastanza classici un po più grandi del normale sulla figure ma nella serie erano i classici solo che avevano una particolarità ovvero quella di potersi unire in questo modo qui formavano quest'arma doppia lama che non è in realtà neanche male come idea anche se abbastanza enorme però ci sta e raffaello era quella che aveva diciamo la la maschera più normale semplicemente la solita mascherina delle tartarughe con la parte sul retro un po più svolazzante e in realtà un po più rovinata e le altre hanno riportato fedelmente anche questo dettaglio vedete perché è un po strappatina qui sulla parte posteriore e quindi questo era raffaello molto figo con il viso ovviamente differente rispetto a tutte le altre tartarughe ogni tartaruga aveva un viso diverso andiamo a vedere anche venus che è quella che ho restaurato ho fatto il video restauro su questa tartaruga con queste armi che in realtà non sono le sue perché avrebbe un ventaglio e un kunai solo che quelle purtroppo non sono riuscito a recuperarle l'unico modo di recuperarle dall'america cifre folli 50 euro una roba assurda solo per due pezzettini di plastica se per caso vi ritorno trovate il ventaglio o un kunai di questa figure soprattutto il ventaglio in realtà fatemelo sapere perché ve lo pago ve lo pago bene se ce l'avete comunque eccola qui color viola molto pallido in realtà la mascherina di questa tartaruga fighissimo il fatto che abbia la maschera a mo' di treccia veramente particolare come tartaruga mi è sempre piaciuta molto questa versione femminile delle tartarughe ninja appunto questa venus gli ho dato queste spade che avevo in più che sono sempre della serie ma di un nemico continuando ancora abbiamo michelangelo che ha i suoi tonfa non usa i nunciaco in quella serie almeno nella maggior parte delle puntate usa questi tonfa che sono anche allungabili sono vabbè ho fatto delle magagne per recuperare tutte le figure con le armi complete le ho comprate più volte infatti ho dei lotti da rivendere su vintage trovate il mio vintage qui sotto in descrizione e addirittura ho recuperato anche lo skateboard che non è un accessorio a caso messo nei giocattoli come spesso capitava in quegli anni ma c'è realmente questo skateboard proprio nelle puntate della serie ed è usato da michelangelo quindi io dovevo recuperarlo assolutamente tamarrissimo con questa parte a forma di pizza insomma però ci sta e quindi l'ho dato a questa figure di michelangelo che in realtà non aveva lo skateboard ma c'era un'altra linea di figure di queste tartarughe non col design classico ma con camicie pantaloncini e robe strane con questi skateboard e ho avuto modo di recuperare anche quelle in realtà magari prima o poi ve le farò vedere ultima ma non ultima abbiamo Leonardo eccola qui una delle tartarughe più amate se non la più amate in assoluto figo il fatto che abbiano anche comunque queste parti differenti l'una dall'altra vedete per esempio ginocchiere diverse, ginocchiere ancora diverse, ginocchiere altrettanto diverse lei non ce le ha proprio erano diversificate in queste piccole cose a me faceva impazzire letteralmente questo fatto e Leonardo nella serie in realtà usa una sola spada che è una spada cinese quelle spade tipo katana però che hanno la lama dritta e a punta con la punta al centro quindi si chiama appunto lama cinese, spada cinese solo che la figure chiaramente ha due spade perché tutte le figure hanno due armi anche come avete visto Donatello ha due bastoni e la spada di Leonardo si apre in questo modo qui diventa non lo so non so perché non so per come ma hanno fatto questa gimmick assurda alle spade di Leonardo assolutamente inutile potevano fare una spada più figa senza fare questa roba tamarrissima comunque ragazzi queste erano le tartarughe ninja next mutation sono riuscito a recuperarle fatemi sapere se ve le ricordate io impazzivo per questi giocattoli da piccolino e avevo solo Raffaello e Michelangelo ora ce le ho tutte e sono felice così detto questo noi ci vediamo alla prossima ragazzi ciao da Ara e come azionate sempre grazie a tutti io ostante buono